nasce anche a crotone finalmente diciamo un centro di addestramento finalmente a crotone in calabria questa nuova avventura dell'accessa associazione cani di salvataggio che si occupa di addestramento cinofilo di tutte le razze in più siamo specializzati all'addestramento dei cani di salvataggio perché la calabria perché intanto è una regione meravigliosa intanto è una regione con tantissime coste a disposizione dell'utenza ed è una regione che era un po' carente dal punto di vista addestrativo c'erano poche realtà addestrative il cane è sicuramente il miglior amico dell'uomo è il compagno più fedele della nostra vita però per avere una giusta relazione per riuscire a poter fare col cane tutto portarlo in ristoranti portarlo in bar portare i locali dobbiamo avere un cane ducato un cane ducato viene accettato dovunque non crea problemi anzi le persone sono contenti di averlo se il cane non è educato ma d'altronde come figli è più difficile portarlo in giro i tempi di addestramento intanto dipendono molto sia dal cane che dal proprietario dipende dall'impegno che il proprietario mette in questo tipo di attività dipende dall'impegno che il cane riesce a ricevere nella fase sia addestrativa quando si viene qua in campo ma anche a casa non possiamo pensare che un giorno a settimana serva a educare ad essere un cane noi diamo le indicazioni noi diamo le informazioni diamo il via un addestramento ma poi le persone devono mantenere e continuare a casa a fare tutte quelle che sono le nostre prescrizioni il primo step e il secondo step sono dei corsi di educazione di base aperti a tutti dove il cane comincia ad eseguire dei comandi quindi nel primo step ci sarà il seduto il terra la condotta al guinzaio ci sarà l'attenzione ci sarà la relazione col conduttore il tutto con il cane al guinzaio nel secondo step si faranno le stesse cose con il cane senza guinzaio e soprattutto si allungheranno i tempi e le distanze quindi io potrò dare un seduto e un terra al mio cane anche da 10 metri o dare un resto il cane dovrà rimanere fermo per un tempo più prolungato oggi crotone ha dato una bella risposta alla cs sono venuti in tanti per curiosità per ascoltarci chi per iniziare questo percorso educativo addestrativo speriamo che la città prosegua con questo tipo di risposta e speriamo che l'attività che facciamo noi di educazione cinofila riesca a diventare una filosofia di vita per le persone che hanno nella propria famiglia un cane